Noi siamo in questo parcheggio, la rabbia legittima, feroce nei confronti di scelte di un'amministrazione che secondo la mia opinione ha perso la bussola e l'ha persa da molto tempo. Questo doveva essere un parcheggio, invece vediamo subito che c'è un'antenna, è trasformata con un'antenna della radiomobile e poi sembra che ci debbano realizzare pannelli solari. Ma la domanda che mi pongo, la prima domanda, ma non era un parcheggio per le auto? Che c'entrano queste sovrapposizioni? Questo era un piano perché le auto dovessero posteggiare. Invece questo mi sembra un grande business di un privato che approfitta di una cosa pubblica. Sembra che ci sia stata un'ordinanza di rimozione di questa antenna. Il sindaco di Vasto immediatamente non deve fare un'ordinanza di rimozione, deve provvedere con i suoi operai a smontare questa antenna. La questione di questa antenna, tra le altre cose, è una questione drammatica e seria dal punto di vista della salute. Perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sancito, e non sto parlando di medici qualunque, sto parlando dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha sancito in maniera precisa che l'elettrosmog provoca dei danni alla salute. Anzi, io come Ivo Menna, lista la Nuova Terra, e come portavoce del Comitato per la Salute contro l'Amianto, mi costituirò parte civile, poi vedremo legalmente come possiamo fare per costituirsi parte civile nei confronti di chi ha realizzato questa antenna. Le forze politiche di centrodestra e quelle di centrosinistra, quelle di centrodestra in questi giorni dicono abbiamo sollevato il problema, siete uguali centrodestra e centrosinistra, perché il problema vero sta nel momento in cui è stato dato l'appalto di una cosa pubblica ad un privato il quale ha realizzato cose diverse, diverse, rispetto alla funzione originale che era quella del parcheggio. Ma si sa, i gestori della telefonia cellulare pagano e quindi questi soldi non vanno al Comune, vanno al privato che la dovrebbe installare questa antenna o che la dovrebbe far installare, quindi miliardi di euro. Qui c'è una crisi seria della politica di centrosinistra, c'è una crisi seria della politica di centrosinistra, di questa amministrazione, che non governa i processi politici in città e i processi economici, ma si fa governare dall'economia, si fa governare oggi dalle antenne e domani si fa governare da altre cose. Noi dovevamo ridurre l'inquinamento atmosferico, dovevamo ridurre l'inquinamento e quindi noi abbiamo fatto una proposta precisa molti anni fa e abbiamo detto che sarebbe stato indispensabile un piano regolatore per le antenne, che il Comune doveva fare. Doveva altresì localizzare un'area dove potevano essere inserite, allocate le antenne con i proventi economici che sarebbero entrati dentro le casse del Comune. Un'azione di raccordo con il Dipartimento della ASL per monitorare la salute dei cittadini perché noi siamo in presenza di nuove patologie tumorali, di un incremento addirittura esponenziale. Il Sindaco e il Consiglio Comunale potevano fare questo, lo potevano fare perché non siamo più in presenza della legge Gasparri e del decreto Marzano che prevedevano che queste fossero opere strategiche e che non avevano bisogno dei pareri del Comune, delle Regioni, cioè bypassavano tutti. La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il decreto Gasparri, e quindi il Comune, la proprietà dei suoli è del Comune, il Comune decide sul suo territorio. Tra le altre cose il Sindaco è il massimo rappresentante della sanità in questa città, quindi avrebbe dovuto lui in prima tutelare la salute. Io queste proposte le abbiamo fatte da anni, a prescindere dal fatto che personalmente io sono sempre stato contrario a questo parcheggio, perché avevo capito dove sarebbe andata a finire con quasi 5 milioni di euro a spese dei contribuenti vastesi, e poi non si è data l'occasione, una volta che è stato realizzato l'occasione, in una situazione di estrema necessità di lavoro, fare in modo di costituire delle piccole cooperative per dare lavoro a dei ragazzi. Questa è la cosa gravissima. Non si può parlare della crisi industriale, della crisi dell'occupazione, delle povertà che stanno emergendo. Se tu non affronti come amministrazione questa, con una carica emotiva e con una carica di prospettiva e con una carica strategica, questi problemi, ecco dove sta. Il vero dramma di questa città è che siamo senza politica e senza politici. E poi una cosa voglio dire al nostro amico Peppino Forte, il quale si era battuto negli anni passati, ho letto qualche cosa di lui in questi giorni, la polemica e le solite polemicucce all'interno del PD, tra lui e il vecchio gruppo dirigente. Ma come? Ma tu sei stato la bandiera dei comitati, ti hai ribattuto contro l'elettrosmog, contro l'installazione delle antenne radiomobili e poi hai consentito, come Presidente del Consiglio, hai consentito e fai approvare una porcheria del genere. Ecco, vuol dire che c'è stato il famoso tipico trasformismo italiano, dei meridionali, dell'Italia, degli italiani, della politica. Ma quello che rimane al fondo è che non si governa più questo territorio, non è stato più governato da anni. Quindi le politiche di centrodestra e centrosizza sono simili, sono uguali. Grazie.